Secondo i dati contenuti nella 164esima indagine congiunturale sull'industria manifatturiera realizzata da Union Camere Piemonte nei mesi di luglio, agosto e settembre 2012, è proseguita la crisi del tessuto manifatturiero cuneese. Facendo seguito alle diminuzioni dei primi due trimestri dell'anno, nel periodo luglio-settembre 2012, la produzione industriale cuneese ha sofferto un calo del 4,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, risultando tuttavia meno intenso di quello subito dal comparto manifatturiero piemontese, meno 5,7%. Nel terzo trimestre del 2012, la crisi del comparto manifatturiero cuneese si è fatta maggiormente sentire, afferma il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello. Le nostre imprese continuano a mostrare difficoltà sia sul mercato interno che su quello estero. La forte dipendenza che le nostre vendite oltre confine manifestano da sempre nei confronti dei partner dell'Unione Europea, i cui sistemi economici risultano oggi particolarmente penalizzati, acuisce lo stato di sofferenza del nostro tessuto manifatturiero, che non riesce a sfruttare il potenziale di crescita dei mercati extraeuropei. Le industrie tessili dell'abbigliamento e delle calzature hanno subito la flessione maggiore, meno 5,9%, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. E anche la produzione delle industrie alimentari, l'unica in aumento nel secondo trimestre del 2012, ha subito nel periodo luglio-settembre una pesante battuta d'arresto, meno 5,5%. Lo scenario previsionale delineato dagli imprenditori cunesi per il trimestre conclusivo del 2012 è improntato ad un evidente pessimismo, pur con qualche spiraglio di ripresa. Migliorano infatti, rispetto allo scorso trimestre, i saldi di opinione relativi a produzione industriale e fatturato totale, restando pur sempre in terreno negativo. Peggiorano invece quelli riguardanti gli ordini totali e la domanda interna. L'unico ambito in cui gli ottimisti continuano a superare i pessimisti è quello degli ordini esteri, previsti comunque stazionari dal 58% degli intervistati.